Non importa, in Alaska! Ma certo, passeremo per il polo nord. Davvero? Sicuro, traversiamo la cordigliera e prendiamo la nave a Valparaiso. Io vado, tu vai! Ma sì, viaggiando in tramvai. Dove vai? Figlia, che sei un forno come tutti gli altri! Non capisco, eppure non avevo bevuto. Capitano? Sì? Il cane è arrivato, possiamo muoverci quando vuole. Bene, vengo. Sgombrare, prego, sgombrare. Muoversi, su. Avrà un sacco di cose da raccontarmi. Non la spaventi, capitano. La ragazza è malata. Ma non si preoccupi, con il cane la ritroveremo. Se la trova, metto a mollerone con il sogno fuori lei. Ma sta attento, che una bestiola matta come quella tira fuori le unce. Saprei io come adormenticarla, altro che clinica. Bene, fin qui il cane l'ha seguita. È evidente che si è infilata nel bosco. Lì la traccia si perde. Saremo costretti a fare una battuta. Quando saranno arrivati tutti gli altri, ci scriveremo a brevi intervalli. Robert, lei guiderà il suo gruppo giù a valle. Voi partirete qui dal centro e Philip si occuperà del lato sinistro. Questi signori ci aiuteranno nelle ricerche. Avanzeremo allineati, battendo a tappeto tutta la zona fino al limite estremo del bosco. Chi la trovasse? Beh, ci vada con delicatezza, non ha tutte le rotelle. Avanti lentamente.